Da gennaio cambierà l'ISE precompilato, l'indicatore della situazione economica equivalente, lo strumento ormai indispensabile per avere agevolazioni per le prestazioni sociali. Adesso questo sistema diventa un vero e proprio un sistema di precompilazione della dichiarazione così come avviene per la dichiarazione dei redditi. Quindi il cittadino dichiarerà il suo nucleo familiare, nel momento in cui dichiare il suo nucleo familiare si troverà tutte le informazioni rilevanti per fare il suo ISE. Quindi c'è un elemento di semplificazione. E poi, come sempre, insieme alla semplificazione, c'è anche quella che i tecnici chiamano la compliance, cioè la capacità di un sistema di questo tipo di rendere più affidabili le dichiarazioni perché il cittadino si trova di fronte alle informazioni che già il sistema dell'amministrazione fiscale o dell'Inps conosce e quindi deve solo confermarle o modificarle se non sono corrette. L'ISE serve alle famiglie tra l'altro per l'assegno di maternità, la retta dell'asilo nido, la mensa scolastica, le tasse universitarie, i bonus sociali per gli sconti su bollette di luce e gas, i servizi sociosanitari, le agevolazioni per gli invalidi di sconti sul trasporto pubblico e soprattutto per il reddito e la pensione di cittadinanza. Il rischio nel mese di gennaio di un vero e proprio caos presso i centri di assistenza fiscale con l'arrivo di oltre 2 milioni di persone interessate. La preoccupazione è importante perché tornando al reddito di cittadinanza i beneficiari per avere la continuità del beneficio dovranno avere un'ISE valida nel 2020 e questo dovrà essere fatto necessariamente nel mese di gennaio altrimenti ci sarà una sospensione della prestazione. Grazie.